Andevano costa, perché avevano portato a casa e ho messo su la prima raccolta latte. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze raccontate da uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. E allora ho cominciato a raccogliere il latte, il pagno, il brondello, lo portavano qui, il bidun, se inessi, sapete. Quindi da spalle così, al mattino cominciavamo alle 5 a ritirare il latte noi. Alle 5 prima avevamo già da mangiare ai maiali. Allora avevamo una piccolissima schermatrice a mano perché non c'era la luce. In quella luce mi sembra che sia arrivata la spalle, nel 30 il pagno, signor. E le avevo giù, le avevo tutti giù, i bambini di 15-16 anni, neanche così. Se ti è piaciuto il racconto della signora Caterina e hai voglia di raccontare la tua storia, puoi telefonare al numero 011 020 38 00. Il tuo racconto diventerà patrimonio della memoria collettiva.